Allora, siamo a Radio Centopassi, dalla storia di Radio Sud all'Ego di Radio Auto. Arriva in centro di Palermo, Radio Centopassi. Allora, siamo qua nella sede con Liborio, che ci racconta la storia di questa radio. Allora, Radio Centopassi nasce dall'idea di un gruppo di amici che negli anni 70 già avevano avuto esperienze di radiofoniche con l'FM. Adesso sono passati tanti anni, adesso noi stiamo cercando di fare rivivere quello che era un pochettino la controinformazione di quel periodo, appoggiandoci a una radio web. Perché una radio web? Perché ormai noi sosteniamo che il web è il futuro dell'informazione. La rete in special modo porterà sempre più all'interno delle case quello che ha fatto la radio fino adesso. Radio Centopassi in questo momento non trasmette o quantomeno trasmette solamente musica appoggiandosi ad un server che viene pagato dalla fine di Tascanossa perché noi non abbiamo sovvenzioni da nessuna parte, tranne che c'è una leggera contribuzione da parte degli ascoltatori. e trasmettiamo solo musica perché la vigilia dell'inaugurazione delle trasmissioni che doveva essere l'8 di marzo, proprio per l'aggiornata della donna dove c'è stata una serie di trasmissioni, l'erenza, le tematiche femminile, abbiamo subito un furto terribile. Sono stati asportati tutta la strumentazione della regia e di conseguenza ci hanno lasciato a bocca chiusa. Quindi voi stavate per inaugurare? Noi stavamo per inaugurare proprio il palinsesto, giorno 8 mattina si sarebbe partito il palinsesto. Quindi che è successo? Ci sono arrivati qua all'8. Il successo è che sono stato chiamato dal coordinatore di Radio Centopassi dove mi ha detto che erano entrati i ladri e di andare a verificare un po' cos'era successo. Il mio primo pensiero è stato quello di andare a pensare subito che sono arrivati. Finalmente questi sono arrivati. Non era possibile che non si sarebbero fatti vivi. Durante il tragitto che intercorse da casa mia fino alla radio soffrono tanti pensieri che ho avuto in mente in quel momento. Che cosa dobbiamo fare? Che cosa non dobbiamo fare? Sono tutta una serie di interrogativi che io personalmente mi sono posto con me stesso ma che già avevo un'idea ben precisa in merito alla situazione. Quando sono entrato proprio qua nella sede della radio lo spettacolo che ho visto, che si è mostrato davanti a me è stata una cosa prettamente terribile, questo lo posso dire e spero che nessuno lo provi mai. Avevano portato via tutto. L'unica cosa che ci hanno lasciato sono questi due vecchi monitor e i fili penzoloni dal banco di regia. La regia è completamente svuotata, la sala di registrazione altrettante. Quando ho visto tutto questo spettacolo non nego che ci sono rimasto molto, molto male. ho fatto un giro di telefonate verso gli altri collaboratori chiedendo un pochettino il loro pensiero nella cosa, la risposta è stata univoca. Noi non ci fermeremo. Non ci fermeremo, abbiamo lanciato una proposta di contribuzione popolare tra i nostri ascoltatori. devo dire che lentamente, ma va funzionando e quanto prima riprenderemo questa benedetta inaugurazione che dovevamo fare il giorno 8 marzo, ma che non ci è stato possibile. Qualcuno mi ha chiesto l'interpretazione di questo furto. L'interpretazione di questo furto io voglio solamente sperare che sia opera di quattro disgraziati, perché se così non fosse allora ci sarebbe da pensare veramente in modo molto diverso. Ma che cosa possiamo fare in questo momento per la radio? Perché qua vi manca ormai tutto, microfoni, dovremmo cercare di aiutare la radio a rinascere, diciamo, portando magari i microfoni, anche le cose che a noi possono sembrare banali, possono essere utili, anche una tastiera per il computer, un computer vecchio, qualunque cosa che dobbiamo riprendere. Allora, un momento, un momento, andiamoci calma. Diciamo che Radio Cento Passi, essendo una web radio, è un transmitter su internet, di conseguenza il materiale che a noi serve sono dei computer, possibilmente di nuova generazione, perché noi dobbiamo mandare… Non vecchi. Non vecchi, perché il computer vecchio poi alla fine va a finire… Certo, non si usa. Non ce ne facciamo molto. Questa cosa qua. Anche cose che a noi possono sembrare… Poi abbiamo bisogno di mixer, di microfoni, di cubi, di registratori, di registratori per le esterne, perché non abbiamo più niente, hanno portato via tutto, tutto quello che Quindi vi invitiamo ad aiutare a ricostruire la radio, anche di venire a vedere, di portare le cose a voi e noi siamo qua e vi aspettiamo a radio. Siamo nella zona del mercato ittico. Noi siamo nella zona, questa zona qua si chiama Tavola Tonda, Tavola Tonda che tra l'altro dà il nome a un progetto di associazioni molto più basse.